Bentornati sul canale giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Compare uno dei nomi legati ad Alfonso Signorini. Si tratta di un grandissimo nome del nostro paese, un celebre personaggio Un po' di tempo fa circolava un'indiscrezione proprio su Alfonso Signorini e il suo presunto ex fidanzato Se ne è parlato molto, ma non è mai arrivata una conferma da nessuno dei diretti interessati Ma chi sarà mai questo misterioso uomo? Chi è che ha condiviso la felicità con il celebre conduttore del grande fratello Vip 6? Tutti conoscono l'orientamento sessuale di Alfonso Signorini, ma pochi sanno che prima di fare il suo coming out il conduttore ha vissuto una situazione ben differente Una rivelazione inedita, fatta durante la conduzione dell'InfVip, parlando con Giacomo Ortiz Quest'ultimo ha rivelato che, prima di esser sicuro della sua felicità privata, aveva convissuto con una donna Ortiz era innamoratissimo, non aveva occhi per nessun altro, ma poi è arrivata una nuova consapevolezza Ascoltando questo racconto, Alfonso Signorini ha rivelato di aver vissuto un periodo analago nella sua vita Ecco chi è l'ex fiamma di Alfonso Signorini Anch'io ho convissuto come te sette anni con una ragazza, ero profondamente innamorato di lei, però di questi sette anni anni ricordo tanto amore ma anche tanto grigione Tutti i giorni erano uguali, non avevo picchi emozionali e sentivo dentro di me che qualcosa non andava Con il racconto di Alfonso Signorini, il presentatore vuol far capire come sia difficile a volte capire chi si è realmente Insomma il conduttore si è poi reso conto di non provare attrazione nei confronti delle donne, ma bensì nei confronti dello stesso sesso e in seguito ha deciso di fare coming out Nel corso degli anni si è parlato molto di questa situazione e si è vociferato anche di diversi flirt del conduttore con personaggi celebri del mondo dello spettacolo In particolar modo, come riportato da Don Napo, sembra che in passato Alfonso Signorini abbia avuto una relazione con un volto appartenente al piccolo schermo e che è molto conosciuto in Italia Stiamo parlando di Cristiano Malgioglio, anche lui dichiarato apertamento omosessuale I due si conoscono ormai da tantissimo tempo. E, nel momento in cui Cristiano Malgioglio era concorrente dell'InfVip, ha rivelato ad una sua coinquilina di aver avuto un flirt proprio con il conduttore Questo, come è ovvio che sia, ha fatto nascere una curiosità incredibile in tutti gli spettatori del programma Alfonso Signorini Ecco chi è l'ex compagno.Dopo la confessione inaspettata di Cristiano Malgioglio, Alfonso Signorini ha commentato per chiarire l'intera vicenda Malgi, non sai tenerti un cecio in bocca neanche a pagarti. C'eravamo promessi prima di entrare nella casa del GFVip che avresti taciuto su questo Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri Ci vediamo nei prossimi video. Ciao Ciao